Gaetano, lei è il papà di Samuel. Samuel è scomparso purtroppo lo scorso maggio nel terribile incidente alla Green Genetics a Gubbio. Ci dice da quanto tempo Samuel lavorava in questo luogo? Samuel era un ragazzo che sin da come ha compiuto i suoi 15-16 anni amava in poche parole avere la sua libertà economica. Gli piaceva in poche parole avere quei soldi in tasca che lo facessero divertire. E in poche parole ha sempre cercato di trovare un piccolo lavoretto che gli consentiva di avere quei pochi soldi per essere indipendente. Da quello che mi risulta era da un annetto a questa parte che andasse a lavorare per questa ditta. Come l'aveva trovata? Cioè aveva scelto questa e non altre oppure era l'unica cosa che aveva trovato? Allora, Samuel aveva trovato questo lavoro tramite mio nipote che mio nipote lavorava a sua volta sempre per la stessa ditta. Avevano bisogno di operai al campo per coltivare la canapa, per creare impianti di irrigazione, per lavorare il terreno. E siccome mio figlio era amante tanto della natura, era amante degli spazi liberi, ha accettato volentieri. Cosa ricorda di quel 7 maggio? Guardi, io mio figlio lo avevo visto il giorno prima e mi ha detto, dici papà guarda, adesso passa Alessandro, stasera vado a dormire da lui. Ho detto, dico Alessandro, va bene, puoi andarci, dico Samuel, da Alessandro, non ci sono problemi. Però dovresti farmi un favore, ancora me lo ricordo bene, stavano entrando in macchina, quando glielo ho detto dico, guarda dovrei fare la denuncia dei redditi, se per favore mi porti il tuo CUD che dovrei inserirlo con il mio. Il mio nipote mi ha detto, guarda zio, me l'hanno dato a me, quando arriva a casa glielo do a Samuel e poi te lo riporta. Questo CUD l'ho ritrovato nello zainetto di Samuel, che aveva appoggiato lì vicino alle scale dove è successo il fatto. Che cosa ricorda di quel giorno, quando le hanno detto dell'incidente? Guardi, io sono stato avvisato sempre da mio nipote, che mi ha chiamato, stavo consegnando, io faccio l'autotrasportatore, e stavo consegnando a Pietralunga, stavo ritornando a casa e mio nipote mi chiama e mi dice, guarda zio, è successa una tragedia, dove lavorava Samuel è saltato tutto in aria. Dico, ma che cosa è successo Alessandro? Dico, zio è saltato tutto in aria, ma Samuel come sta? Mi ha detto, Samuel non se ne sa niente né di Samuel né di tutti gli altri. Dico, per favore vieni subito. Dico, qui è pieno di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ci sono tutti. Dico, per favore vieni subito. E mi sono subito recato lì al posto con mia moglie. Sono arrivato a casa, ho posato il camion e sono subito andato lì nel posto. È cambiato tutto in pochi minuti. È cambiato tutto in pochi minuti, sì. Avevamo, non lo so, un po' di speranza. Tanto quando siamo arrivati e mia moglie si stringevamo forte la mano dicendo, guarda, sicuramente adesso lo tireranno fuori. E adesso lo tireranno fuori. Però passavano i minuti, alla fine sono passate pure qualche oretta, è passata. E niente, ci hanno dato la triste notizia che Samuel era morto. Lei che idea si è fatto? Insomma, è una tragedia che poteva essere evitata? Io penso proprio di sì. Poteva essere evitata. Erano sorte delle irregolarità. Penso che chi di dovere, chi ha in un certo senso portato fuori questa irregolarità, doveva intervenire molto più rapidamente e nello stesso tempo, in poche parole, magari mettersi a cooperare con tutti gli altri organi, che possono essere organi a livello, che le posso dire, a ASL, a livello comune, per in un certo senso capire se questi signori che stavano operando e che, in poche parole, si erano trovate delle irregolarità, avessero tutto a posto. Questo non è stato fatto. Questo non è stato fatto per niente. Questo le crea ancora più... Che tipo di sentimento? Rabbia. Rabbia. Perché se uno, in un certo senso, ci sono delle cose che non vanno, bisognerebbe agire immediatamente. Non bisogna aspettare che succedano queste tragedie per poi poterle alla fine piangere. Non si deve arrivare fino a questo punto. Lei ha sentito una vicinanza della città, delle istituzioni, o non so di che cosa. Insomma, pensa che in qualche modo ci sia stata solidarietà nei confronti della sua famiglia e chiaramente anche della famiglia di innocenti che vive lo stesso suo dramma. Riguardo a questo le posso dire una cosa. Io ho quasi 30 anni che abito a Gubbio. Il lavoro che faccio mi porta ad avere, diciamo, di conoscere tantissime persone. Tantissime persone che, in poche parole, anche prima che succedesse il fatto, mi hanno sempre stimato, come io ho stimato loro. Però in questo caso, dopo che tanti hanno saputo che, in poche parole, ero stato io il disgraziato a subire questa grande sciagura, io devo dirle che la gente mi è stata così tanto vicina, mi ha portato così tanto calore, che, in poche parole, mi hanno dato anche una grande mano per superare questo grande momento, questo brutto momento. Il giorno del funerale, Sua Eccellenza il Vescovo, parlando del caso di Samuel, ha detto, ha fatto, insomma, una sorta di mea culpa della società, dice, non abbiamo, non ascoltiamo abbastanza questi ragazzi. Questi ragazzi a volte ci parlano, ci chiedono di poter avere un lavoro, un lavoro dignitoso, un lavoro correttamente retribuito, un lavoro correttamente formato, noi non li ascoltiamo. Samuel è una società che non ascolta. Crede che sia una delle responsabilità della morte di Samuel, una società che non sa più ascoltare questi ragazzi? Penso proprio di sì. Mio figlio, guardi, ha scritto un po' di canzoni e lo ribadisce spesso e volentieri in queste canzoni che lui ha scritto. ci danno più, ci dà più valore al dio denaro, al potere che in poche parole veramente ha le esigenze di questi ragazzi che crescono e spesso e volentieri non sono supportati, non sono supportati da gente che ha molta più esperienza e che dovrebbe in un certo senso cercare di indicargli una strada. questo non viene fatto, non viene fatto. Che cosa voleva fare Samuel da grande? Samuel, allora, amava tanto la musica. Dicevo anche all'avvocato prima che in poche parole forse era, diciamo, da qualche anno che ingomigiava. non aveva incontrato forse la strada che poteva veramente aiutarlo a sfondare. Tanto che anche io, non è che qualche volta glielo dicevo, dicevo Samuel, guarda, dico, la musica è bella, tu devi farla, devi continuarla. Però sappi che in poche parole in questo mondo ne sfondano, dico, uno ogni centomila. Dico, speriamo che il fortunato sia te, ma guarda che è così come dice papà. Però lo lasciavo fare, lo lasciavo fare perché in poche parole era la sua passione. Si chiudeva in cameretta, scriveva, cercava in un certo senso di trovare le strofe giuste per le sue canzoni. Tanto che in poche parole, se uno ascolta una canzone di Samuel, sente che è toccante di quello che dice. E poi tocca tantissimo il presente, quello che stiamo passando. Come diceva lei, i ragazzi in poche parole sono un po' spersi, non hanno guide. Non hanno guide. Gli amici di Samuel hanno dato vita ad una delle canzoni di Samuel, l'hanno musicata, l'hanno cantata, in qualche modo lo hanno fatto rivivere. Sì, sì, l'hanno pure pubblicata su Facebook. Hanno fatto rivivere mio figlio, lo hanno fatto rivivere. Sono dei ragazzi che in poche parole erano sempre assieme, stavano crescendo assieme e in poche parole stavano un po' entrando nella vita di adulti. Lo stavano facendo con tantissima dignità. Ragazzi che, io penso che come tantissimi altri, avevano dei sogni e volevano raggiungerli. Io gli auguro a questi ragazzi che in poche parole questi sogni che hanno li realizzano. Li realizzano non solamente per loro, anche perché vedendo loro io vedo il mio figlio vivo. Nessuno le restituirà più Samuel e questa è purtroppo la certezza che abbiamo. Però che cosa vuole? Cioè se lei oggi vede domani, cosa vuole? Io vorrei, prima di ogni cosa, augurare a tutti i papà e tutte le mamme di questo mondo, a tutti quelli che hanno una famiglia, di cercare di non passare quello che ho passato io. Non si dovrebbe augurare una cosa del genere neanche, penso io, neanche agli animali. La giustizia? Sì, quella sì. Quella sì perché togliendo un essere umano dalla vita, togliendo un essere umano dalla sua... Mio figlio era molto attaccato alla vita. Samuel era attaccato. Samuel ogni giorno programmava quello che doveva fare. Io penso che togliendo la vita, un ragazzo del genere chi lo ha fatto e ha delle colpe dovrebbe pagarla, dovrebbe pagarla, dovrebbe pagarla. E spero che questo succeda.